Il pescatore che batte il fiume. Un pescatore pescava in un fiume e avendo teso verticalmente una rete che così attraversava da una sponda all'altra la collente, legato a una pietra una corda di lino cominciò a battere l'acqua affinché i pesci fuggendo incampassero inevitabilmente nelle maglie della rete. Ma uno degli abitanti del luogo, vedutolo mentre faceva ciò, lo rimproverò perché rendeva torbida l'acqua del fiume e impediva loro di berla limpida. Gli rispose allora il pescatore, ma se il fiume non viene così agitato io dovrò morire di fame. Così anche i demagoghi della città allora soprattutto realizzano i loro affari quando hanno gettato nella discordia il loro paese.